Dopo chirurgia vascolare, oltre ai reparti di oncologia e cardiologia, anche il laboratorio analisi del Cardarelli sarebbe in via di trasferimento verso la Cattolica. A denunciare l'ennesimo atto di smantellamento della struttura pubblica è il presidente del forum per la tutela della sanità pubblica Italo Testa. E' questa l'ultima eclatante notizia che giunge dal fronte sanità. L'altro giorno mi dicevano dei colleghi, dei vari centri che erano stati a parlare col nuovo direttore generale dell'ASL, il dottor Sosto, il quale ha detto che è intenzionato a chiudere il laboratorio di analisi dell'ospedale Cardarelli e trasferire tutta la Cattolica. Quindi i colleghi del reparto lo sappiano questo, se si decidono le azioni, che vengono a fare le azioni. A complicare la matassa già di per sé ingarbugliata, oltre al piano operativo elaborato da frattura, ci si mette adesso anche la burocrazia regionale. Da oltre 20 giorni sempre lo stesso testa ha fatto richiesta all'ASREM del carteggio che attesterebbe la presunta vulnerabilità sismica del Cardarelli, ma al momento dagli uffici dell'azienda sanitaria nulla è pervenuto. E' lo stesso testa a denunciare la situazione manifestando il proprio disappunto per documenti che dovrebbero essere pronti da tempo. Il sospetto del presidente del forum è che il piano frattura sia stato disegnato a tavolino senza tener conto dei dati reali. Sono andato a fare la richiesta di questa documentazione e l'ho fatta 20 giorni fa all'incirca. Comunque siccome abbiamo chiesto di essere ricevuti dal tavolo tecnico e al tavolo tecnico uno non può andare a dire ghiacchie, deve andare a dire i fatti. Siccome avevo chiesto questa documentazione, avevo sollicitato, era pronta, sono andato a ritirarla e non mi è stata data perché il funzionario, mi ha detto che il direttore amministrativo della ASL ha bloccato tutto perché doveva verificare se mi toccavano o non mi toccavano. La cosa mi ha un po' indisposto, dico sinceramente, perché non è che io cercavo le carte per andare a vendere l'ospedale, perché dovevo documentare, volevo documentare quello che è la mia impressione, cioè che questo piano sanitario che è stato fatto è stato fatto sulla carta, non sui dati, perché quelle poche documentazioni che mi ha dato la dottoressa Innocenzo, io lo riguardate ma come pensavo sono un po' numeri buttati e lì allo sbaraglio. Va ricordato che la presunta vulnerabilità del Cardarelli è uno degli elementi costitutivi del processo di trasferimento di interi reparti presso la Cattolica, un cavallo di battaglia che insieme al blocco delle Assunzioni rappresenta in realtà il cavallo di Troia attraverso il quale portare il servizio pubblico nelle mani del privato.